Kia Sportage ha trionfato nella JD Power 2014 Germany Vehicle Ownership Satisfaction Study, la classifica tedesca che misura il grado di soddisfazione del cliente. Sportage si è assicurato il primo posto assoluto nel suo segmento con una percentuale di guidatori soddisfatti pari all'83,6%. Il SUV compatto di Kia, appena ristilizzato, si è anche piazzato al sesto posto assoluto fra le vetture più apprezzate dagli automobilisti teutonici. Si che per la prima volta entra nella top 10 di questa prestigiosa classifica, che prende in esame un campione di ben 18.000 automobilisti. Ottimi anche i risultati ottenuti dai modelli Sii del Rio, entrambi tra i più apprezzati nelle rispettive categorie.